I tassisti che si trovano ogni giorno in stazione per attendere la chiamata dei clienti sono ancora messi in difficoltà per via del mancato intervento dei tecnici. La colonina nel quale posto il telefono per rispondere alle chiamate, infatti, non funziona da mesi, ma nessuno si sta mobilitando per risolvere quello che è in realtà un servizio pubblico, causando la perdita di numerosi clienti. Gli autisti non si sono persi d'animo e stanno a propria spesa un telefono aggiuntivo in modo da non perdere il lavoro su quale hanno tanto investito. La situazione, detta del tassista Davide Cammarota, esige però la massima attenzione da parte delle istituzioni. Personalmente abbiamo provveduto temporaneamente a questo disservizio, visto che c'è l'assenza da parte dell'amministrazione, mettendo questo telefono provvisorio che però comunque non risolve il problema, perché purtroppo spesso capita che magari qualche collega è un po' distratto, l'opposizione in modo sbagliato e la linea risulta occupata, quindi non riusciamo a prendere le chiamate. A noi dispiace molto di questa situazione, soprattutto perché c'è una scarsa comunicazione da parte dei dirigenti preposti a risolvere il problema. Gli abbiamo sollecitato più volte il problema anche con delle PEC. Le risposte sono sempre un po' evasive, dicendo che ci sarà l'intervento da parte di un tecnico, però non riusciamo a capire questo tecnico da dove deve arrivare, visto che ci sta mettendo così tanto tempo. Abbiamo anche un piccolo strumento, diciamo, da parte nostra e di noi tassisti, che sono delle commissioni che vengono fatte in comune, che sono commissioni taxi, dove si possono segnalare delle problematiche, delle negligenze, dei problemi che riguardano il nostro servizio. Però con dispiacere abbiamo constatato che nelle ultime due commissioni che sono state fatte, nonostante siano stati segnalati molti problemi, durante la commissione hanno valutato di non riportare nel verbale finale queste problematiche che noi abbiamo segnalato e riteniamo che questa sia una cosa molto grave, perché non tutti vengono a conoscenza di quello che si discute all'interno di queste commissioni.